Volevamo dare questa mattina un quadro complessivo dell'iniziativa in corso nella sanità casertana per trasmettere ai nostri concittadini un elemento di serenità, di tranquillità, ma anche per dare un'informazione certa sulle iniziative che sono in corso. Prima di tutto, istituzione del DEA di primo livello a piedi montematese. Era un impegno che avevamo assunto con la comunità locale, è un territorio difficile, è un territorio nella parte estrema della provincia di Caserta, è un territorio che soprattutto nel periodo invernale vede una mobilità dei nostri concittadini verso il Molise, dove abbiamo altre strutture sanitarie. L'istituzione del DEA di primo livello, come ha confermato il direttore generale, che consentirà di bloccare, frenare questo flusso migratorio, ma consentirà soprattutto di ampliare la qualità dei servizi che diamo ai cittadini di piedi monte e di tutto il contesto territoriale che ruota intorno a questo ospedale. DEA di primo livello, come conferma il direttore generale, prevede il potenziamento di servizi, la realizzazione di servizi attualmente non presenti. Urologia, autorinoaringoiatria, oftalmologia. Sottolineo anche io l'eccellenza che abbiamo già a piedi monte-matese per quanto riguarda l'ortopedia e l'apprezzamento per il lavoro che sta facendo l'ASL per le cure oftalmologiche legate al diabete. È un'iniziativa davvero all'avanguardia nella nostra regione che merita una sottolineatura. Confermiamo ai cittadini di piedi monte che DEA di primo livello significa anche l'istituzione di un eliporto, cioè di una struttura che consentirà l'atterraggio di un elicottero anche per soccorso sanitario rapido. Teniamo conto, ripeto, che siamo in un territorio difficile, soprattutto nel periodo invernale, e questo dà un elemento di sicurezza, di tranquillità in più ai nostri concittadini. Sono in corso anche, per quanto riguarda l'ASL, le attività per l'allargamento della medicina territoriale, con le aggregazioni funzionali territoriali che avvicineranno i servizi sempre di più ai nostri concittadini e alle famiglie. Abbiamo, con il DEA di primo livello a piedi monte, anche un incremento di posti letto destinati a quella struttura. Secondo capitolo, anche per dare, anche qui, un elemento di tranquillità ai nostri concittadini. Devo sottolineare ancora il lavoro fatto dall'ASL, dalla regione, di fronte ad un'emergenza che abbiamo avuto solo poche settimane fa. Sembra che sia passato un secolo, ma solo qualche settimana fa noi abbiamo avuto uno dei focolai più pericolosi d'Italia. Quando a Mondragone abbiamo dovuto affrontare il problema delle 4-5 palazzine Cirio, con 800 in larga misura di provenienza dalla Bulgaria, ma anche della comunità Rom. situazione che ha richiesto l'istituzione di una zona rossa per 15 giorni, non è stato facile. Con l'ASL abbiamo fatto un lavoro estremamente attento, capillare, sia per individuare le persone contagiate, sia per controllare il territorio di Mondragone, sia per seguire anche i lavoratori stagionali e individuare i contatti avuti dai singoli lavoratori. È stato fatto, credo, un lavoro eccezionale. Nell'arco di tre settimane il focolaio di Mondragone è stato spento. Non era scontato. Questo si aggiunge al Covid Center che è stato realizzato dall'ASL a Maddaloni, che, come ricordava il direttore generale, è un ospedale di avanguardia, perché abbiamo sale a pressione negativa, cioè il virus non esce dalle sale dove sono ricoverati i pazienti. È dunque un ospedale che funziona in totale sicurezza. Abbiamo la formazione di team multidisciplinari, come veniva ricordato, Grazzanise, Caserta, Piedimonte. Credo che anche dal punto di vista del Covid e del contagio abbiamo realizzato le condizioni di serenità per la popolazione, anche di fronte a questa ripresa di contagio, che è legata per il 90% alle persone che sono rientrate dall'estero o da altre regioni. Ne approfitto per chiarire che la Regione Campania sta realizzando un piano di prevenzione e di sicurezza proprio in relazione ai contagi di importazione. Il 12 agosto, e ad oggi siamo ancora l'unica regione d'Italia ad averlo fatto, abbiamo emesso un'ordinanza che rendeva obbligatorio l'isolamento omiciliare per i cittadini campani che rientravano non solo dai quattro paesi più a rischio individuati dal governo, e cioè Spagna, Grecia, Croazia e Malta, ma abbiamo deciso che tutti i cittadini campani che rientravano alle ferie dovessero andare in isolamento domiciliare in attesa del tampone, se non facevano già il tampone all'aeroporto di Capodichino o nelle varie realtà di arrivo. Ad oggi questo lavoro sta andando avanti in maniera estremamente attenta e dobbiamo continuare così. Quando si determina un problema o mettiamo la testa sotto la sabbia e questo significa che fra un mese e un mese e mezzo avremo in Campania centinaia di contagi. Oppure facciamo il lavoro che stiamo facendo, cioè filtrare quando arrivano i nostri concittadini in Campania, filtrare, individuare i positivi, costruire quando non abbiamo individuato all'arrivo i positivi la rete dei contatti. Ieri abbiamo avuto 270 contatti. La metà da arrivi da fuori regione un altro 40% sono legati ai contact tracing, cioè alla ricostruzione dei contatti diretti o indiretti che hanno avuto i precedenti positivi. Questo lavoro è indispensabile perché, lo ripeto, per ognuno che noi individuiamo oggi come positivo ci risparmiamo fra un mese e mezzo 10 contagi positivi. Quindi è un lavoro davvero decisivo per dare serenità alle nostre famiglie e per contenere e poi sconfiggere il nuovo contagio che stiamo registrando perché, come sapete, l'Italia è stata aperta. Non vi è più il limite nella mobilità interregionale. Sono state aperte tutte le attività economiche. È evidente che in questa situazione noi registriamo un contagio da importazione che dobbiamo saper controllare. Ed è quello che stiamo facendo con un piano sicurezza e prevenzione estremamente capillare che dobbiamo proseguire finché non si esaurisce l'onda dei rientri dalle ferie. Ne approfitto per dire ancora che per quello che riguarda Caserta è in atto davvero un lavoro gigantesco di potenziamento delle strutture. A conferma che possiamo guardare, ripeto, con serenità anche ai mesi e agli anni che abbiamo avanti. Intanto voglio ricordare un dato. Il nuovo piano ospedaliero, come sa il direttore generale che noi abbiamo approvato, prevede per la provincia di Caserto il maggiore incremento di posti letto. La provincia di Caserto era la provincia più penalizzata della regione per quanto riguarda il numero di posti letto per abitanti. Il nuovo piano ospedaliero prevede un incremento di 236 posti letto per la provincia di Caserto. 97 per la terapia intensiva, 139 per la subintensiva e così via. Abbiamo aperto un nuovo reparto di oncologia al Sant'Anna e San Sebastiano, molto avanzato sul piano tecnologico. Abbiamo aperto solo due anni fa il nuovo pronto soccorso all'ospedale Moscati di Aversa, che è veramente una struttura bellissima. ricordo anche dal punto di vista della struttura, è davvero una realtà all'avanguardia, con la possibilità di fare servizi autonomi sul piano diagnostico, con possibilità di effettuare tacche ed ecografie ad Aversa. Abbiamo intitolato qualche mese fa ad Anastasia Guerriero, il DEA di primo livello di Marcianese. Soprattutto due questioni per la prospettiva. La prima è Policlinico di Caserta. Sapete che abbiamo destinato altri 50 milioni di euro per il completamento del Policlinico. Credo che le ultime notizie ci dicano che i lavori stiano riprendendo, perché si è trovata una forma di transazione con l'impresa che era impegnata lì, in cui il cantiere aveva bloccato i lavori. Dunque, guardiamo con fiducia anche a questo grande intervento. In ogni caso, garantiamo l'acquisto di tecnologia all'avanguardia oggi nel mondo. Soprattutto, e in modo particolare per quanto riguarda l'ASL, ma non solo, sapete che l'uscita dal commissariamento ci ha consentito di avere, dopo 20 anni, finanziamenti relativi ad una vecchia legge, all'articolo 20 di una vecchia legge che finanziava l'edilizia ospedaliera. Essendo commissariati, non abbiamo avuto per 20 anni neanche un euro. L'uscita dal commissariamento ci consente di avere, su base regionale, un miliardo e 300 milioni di euro per l'edilizia ospedaliera. La provincia di Caserta è interessato per interventi molto rilevanti. Per Marcianise si prevede un investimento di 23 milioni di euro per la messa a norma e l'adeguamento complessivo del presidio ospedaliero in Marcianise. Si prevede la realizzazione, per un importo di 60 milioni di euro, del nuovo presidio ospedaliero di Sessa-Urunca. È un intervento di grandissimo rilievo, ripeto, 60 milioni di euro per un nuovo ospedale. È un intervento di 10 milioni di euro nel complesso La Maddalena di Aversa da destinare alla Cittadella della Salute per l'Attività Territoriale. Aggiungo che anche per quanto riguarda l'azienda ospedaliera si prevede per il Sant'Anna e San Sebastiano un nuovo edificio per 16 milioni di euro e una nuova piastra operatoria per 11 milioni e 700 milioni di euro. Dunque, io credo che possiamo, al di là di questi interventi di merito previsti che consentiranno di fare a Caserta davvero un grande salto di qualità, credo che possiamo trasmettere un messaggio di serenità, di tranquillità e anche di fiducia per i cittadini della provincia di Caserta. Il lavoro è pienamente in corso, l'emergenza che stiamo vivendo per quanto riguarda il Covid è pienamente sotto controllo. Credo che dobbiamo continuare a lavorare così per concretizzare una svolta che nella sanità casertana può essere davvero una svolta di carattere storico. Per il resto chiedo ai nostri concittadini, insieme con le autorità sanitarie, di aiutarci nel lavoro di contenimento del Covid. È un lavoro difficile che richiede senso di responsabilità da parte di tutti i nostri concittadini. Vi ricordo che sono ancora in atto le ordinanze che vietano gli assembramenti. In caso di assembramento di più di 3-5 persone bisogna indossare obbligatoriamente la mascherina. Sono ancora vietate le feste in locali pubblici e in luoghi privati. A maggior ragione oggi, alla vigilia dell'apertura dell'anno scolastico. Allora chiediamo a tutti i nostri concittadini grande senso di responsabilità e grande impegno nel rispetto delle misure sanitarie per il contenimento del contagio. Grazie a tutti, buon lavoro.